Sono stati abbandonati dentro ad una scatola di cartone nei pressi di via Fiorentina ad Arezzo infredoliti con problemi cutanei ed affetti da giardia. A notarli alcuni passanti che sentendo dei guaiti si sono avvicinati e li hanno visti quattro splendidi cuccioli. Ci hanno chiamato perché un ragazzo portava fuori il suo cane e in una traversa di via Fiorentina ha trovato uno scatolone con quattro cuccioli magri, sporchi, denutriti, infredoliti. Erano un disastro. Le abbiamo portate in canile, erano tre maschi e una femmina pieni di rogna, di vermi, di giardia, pieni di morsi. Erano messi maluccio. I cagnolini sono stati accolti dai volontari del canile comunale gestito dall'EMPA e adesso sono pronti per l'adozione. Ora stanno meglio, sono stati curati, sono guariti, sono stati vaccinati. Uno è già stato adottato e quindi cerchiamo casa per gli altri. Sono rimasti due maschi e una femmina e saranno, hanno ora due mesi, e saranno una futura taglia media. Sono andati a tutti i tipi di famiglie consapevoli che comunque tanto il cane è sempre un impegno. Verranno una taglia media. Ora la certezza non possiamo averla non conoscendo i genitori. Quindi chi ha giardino, ma va benissimo anche chi sta in appartamento, purché abbia tempo da dedicargli.